E tanto la serie S l'ha giudicata Alberto Bonora uno sedici e quindici sono partiti gli atleti della quinta serie per la terza Leonardo Forin nuoterà in uno, Andrea Scartozzoni in due, Mattia Colmagro in tre, Luca Brazzale in quattro, Tommaso Fregoni in cinque, Alessandro Viotto in sei, Giacomo Missiato in sette, Riccardo Grazianna in ottava corsia. Grazie a tutti! Intanto l'arrivo di questa serie con Daniel Selmin, Padova nuoto, uno tredici e zero otto per la conclusione della quarta serie.